Il Politecnico sta dando e può dare ancora di più un grande contributo per Milano. Innanzitutto in termini di reputazione, è una grande istituzione per una grande città. Aumenta l'attrattività di Milano per i giovani e questo per me è assolutamente fondamentale. E poi c'è un terzo punto che è il fatto che il Politecnico sta aiutando ad allargare la città, investe nella sua sede storica, investe in Bovesa.